Topi d'appartamento in azione in piena notte mentre i proprietari stanno dormendo in due distinti episodi. In via Peschiera i ladri sono entrati in un'abitazione dove vivono padre, madre e figlioletta dopo aver praticato un foro a un infisso. Una volta dentro hanno messo il soggiorno a soquadro, via 300 euro in contanti, 7 mila euro di gioielli, una borsa e un portamonete griffate, raccorgersi alle 5 il capofamiglia, 47 anni. Stesso copione in via Chiarini, in un appartamento al secondo piano, occupato da una coppia con due figli, rubati 4 telefoni cellulari e 700 euro, in entrambi i casi sul posto le volanti.